Gran bella iniziativa di RCS75 con il patrono Lucio Rossomando che ha prodotto un video natalizio con la partecipazione entusiastica dei bambini. Senti sempre on A è la musica per te, accendi la radio e brinda con noi, buone feste a tutti voi. Senti questa musica che dona allegria, toccinga il sonda e viene e canta, fatte forte il nostro sound. Oggi lo sai che festa è, è Natale intorno a te, RCS, la radio del sud, buone feste a tutti voi. Lascia che ogni cosa si colori di magia, così nel sonda e viene e canta, batte forte il nostro sound. Oggi lo sai che festa è, è Natale intorno a te, RCS, la radio del sud, buone feste a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie.